Cosmetologia clinica è il nome dei prodotti, delle mie creme, perché in effetti per me sono quasi dei figli, perché essendo un cosmetologo, quindi una grandissima passione per il mondo della cosmetica e per il mondo dell'estetica. Cosmetologia clinica è un connubio tra bellezza e scientificità dei prodotti, sono dei prodotti personalizzati, il concetto è il terror made. La linea cosmetologia clinica è una linea modulabile, una linea potenziabile, che diventa una base che può essere integrata, sinergizzata con altri principi attivi a seconda poi di quelle che sono le necessità della persona della pelle, della persona che ho di fronte, insomma della signora, della ragazza, ma anche degli uomini, insomma perché oggi il cosmetico, ma anche come ieri, è per tutti. Dunque cosmetologia clinica è un concetto, il concetto di bellezza su misura, che poi è il filo conduttore in realtà di tutto il mondo cosmo. Oggi inauguriamo il centro cosmo, che è proprio in Viale Parioli 162, dove cosmetologia clinica è un di cui, è un di cui di tanti altri argomenti, quindi è un percorso, il percorso cosmetologico che si integra ed è, diciamo, va proprio, come dire, a completare anche il discorso medico estetico, e il discorso estetico, ma il tredunione è sempre lo stesso, la personalizzazione è comunque il tailor made, quindi un abito su misura che costruiamo, che cuciamo addosso alla nostra paziente o cliente, a seconda poi dell'ambito in cui la trattiamo. Diciamo l'estetica è un mondo che si divide in un'estetica medicale, in un'estetica invasiva e in un'estetica non invasiva. Ora, i percorsi possono essere integrati o anche divisi, il risultato però può essere lo stesso, in che termini? Quando parliamo di un inestetismo come una ruga, io posso trattarla o con delle punturine, quindi con dei trattamenti intradermici, o comunque con dei trattamenti non invasivi, quindi, diciamo, naturali, che possono essere semplicemente un massaggio, delle tecnologie. Per non invasivo intendiamo qualcosa, un atto che non compie un medico, ma che fa una terapista o un estetista. Ora, i risultati, vorrei sottolineare questo, i risultati ci sono lo stesso con un'estetica non invasiva. Sono forse un pochino più lenti, ma comunque la ruga, riusciamo in ogni caso a contrastarle, a correggere questo inestetismo, anche senza ricorrere a un ago. Ora, nei nostri percorsi integrati, l'ago, quindi la medicina estetica è molto presente, ma si può anche scegliere una strada dove in realtà la medicina estetica non c'è, quindi dove possiamo fare un trattamento bioliftante, quindi semplicemente manuale, cosmetologico, con delle tecnologie specifiche. Quindi sì, il non invasivo esiste ed ha anche dei risultati. Grazie. Grazie. Grazie.